Come divide le preoccupazioni di Fratelli d'Italia per la trasmissione Peppa Pig? Non per motivi geopolitici, no, non so cosa sia successo a Peppa Pig, giù le mani da Peppa Pig, da Masha, da Cenerentola, che rischio sta correndo Peppa Pig? Loro non vogliono mandare in onda questa puntata che mostra una famiglia amocentoriale sostanzialmente. Diciamo che per me è prioritario è bloccare i bolletti della luce del gas, perché molti italiani non avranno più manco i soldi per pagare il canone Rai, per intenderci che è abbinato alla corrente. Quindi poi io lascerei ai bimbi il gusto di godersi i cartoni animati, le fiabe che si guardano e leggono da una vita senza che ci siano innovazioni che interessano più gli adulti dei bimbi. Detto questo, se devo scegliere fra Peppa Pig e le bollette, scelgo le bollette.